Due giorni di protesta per i commercianti di Marzamemi, il borgo soffre, noi abbandonati da chi governa. Due giorni di protesta per i commercianti di Marzamemi che hanno deciso di chiudere simbolicamente le attività mercoledì e giovedì per denunciare una mancata gestione pubblica del borgo che sta creando non pochi disagi. Nel momento in cui tutte le imprese del turismo in Sicilia e in Italia stanno affrontando l'alta stagione concentrati ad accogliere, dichiarano gli esponenti del centro commerciale naturale di Marzamemi, noi imprenditori di Marzamemi siamo costretti a protestare e attivare manifestazioni di dissenso verso il modo improvvisato, insensato e dittatoriale con cui il sindaco di Pachino, Carmela Petravito, gestisce questo luogo di lavoro, investimento e accoglienza internazionale. I commercianti hanno chiesto in vano un incontro con Carmela Petravito per programmare la stagione turistica 2023, colma di problematiche che continuano gli operatori del borgo, che affrontiamo in perfetta solitudine laddove possibile carenza idrica, gestione dei rifiuti, viabilità, assenza di progetto di valorizzazione del territorio. Il sindaco ha rifiutato perfino di accogliere le valutazioni della consulta Marzamemi, organismo comunale che comprende anche le associazioni di categoria. E da sola, senza giunta, senza esecutivo, senza assessori competenti in materia, senza che lei stessa abbia competenza e conoscenza di luoghi, settori produttivi e dinamiche turistiche, ha preso decisioni che qui contestiamo, avviando oggi azioni di protesta che devono essere recepite nelle loro motivazioni e contenuti. La piattaforma di rivendicazione dei commercianti prevede la risoluzione immediata delle problematiche ataviche del borgo, quali la guardia medica turistica aperta solo fino alle 14, alla crisi idrica e poi una gestione degli ambulanti stagionali corretta rispetto al luogo, nel rispetto delle regole commerciali, igienico-sanitarie e dei vincoli paesaggistici e monumentali. Ripensare la destinazione del mercatino artigianale, considerato una risorsa del borgo, e attivare un tavolo tecnico con il demanio marittimo per destinarlo in viale Ionio.